Il Comune di Caltanissetta ha dato il via libera alla realizzazione di altri 32 stalli rosa che saranno posizionati davanti a uffici pubblici e supermercati con parcheggio gratuito per le donne in stato di gravidanza o per genitori con bambini di età non superiori a due anni. In questo momento gli stalli rosa in città sono quattro, che diventeranno in totale 36 con la delibera che il Comune di Caltanissetta ha approvato. Per usufruire del beneficio sarà necessario munirsi dell'apposito permesso rosa rilasciato dalla Polizia Municipale. Gli stalli rosa saranno applicati davanti a uffici pubblici come in via De Gasperi, via Malta e via Le Regione, in prossimità di uffici postali come in piazza Pirandello, via Paladini e piazza Roma, nel villaggio Santa Barbara presso la Chiesa in Corso Italia ma anche di supermercati in via Mari, via Le Michelangelo e via Musco. Come si legge nell'ordinanza del Comune di Caltanissetta, i trasgressori saranno puniti secondo la sanzione prevista dalla normativa.